Concentrato? Contro squad, mi raccomando, penultimo tentativo. Penultimo, giusto? Penultimo, penultimo. Scendiamo sul main. Ma prendi? Sì, prendo, prendo. 91 se l'esce, 12 mesi. Su, posso portarti alle Maldive con me? Lasciami entrare. Morto. Sono scandaloso, sono scandaloso, non mi commentate. Non voglio neanche commentare, vincere. Più veloce, più veloce. Lo vedo. 34. 30, bravissimo. Lo vedo. Sto entrando, sto entrando, sto entrando. Lo so, lo so, lo so, lo so. Sto entrando, sto entrando. Marta, Marta. Bravo. Eh, si è messo d'accordo, perché sto entrando, sto entrando. 31, 32, 55, morto. Mi sto facendo scudo, eh. C'è queste 35. Niente macchina. Ma dobbiamo solo spingere, dobbiamo solo spingere. Spingiamo, dai. Verso il benzinaio, mongolfiera. Oh, macchina, macchina. Sì, la vedo, la vedo, la vedo. Eh, ma quelli si allontanano. Ma prima di andare avanti con il video, ragazzi, volevo annunciarvi la nuova Christmas Edition di Level Up. La Spicy Christmas Edition. Guardate che bello il packaging, ragazzi. C'è un Babbo Natale che fa una Duchen. Devastante. Ragazzi, questo nuovo gusto è allo zenzero, arancia, limone e fiori di Sambuco. Buonissimo. Fra poco lo andiamo a provare insieme. Ed è accompagnato da una promozione di fine anno. Il 20% su qualsiasi ordine con il codice XIUDERONE. Ma se l'ordine supera i 69 euro, avrete allora un 40% di sconto. Sempre con il codice XIUDERONE. Quindi approfittatene, oltre a questo nuovo gusto, sul sito di Level Up, trovate in descrizione il link, ci sono tantissimi altri Gaming Booster che potete assaggiare. Anzi, a proposito di assaggiare, andiamo a provarlo. Mezzo litro d'acqua! Un misurino di prodotto! Siete pronti? Dai che siete pronti! Shake, 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 shake! Shake, e voilà! Il nostro Level Up è pronto per essere assaggiato. E io non vedo l'ora. C'è un profumo di limone che... Mamma mia! Senti che profumo! Vado! Mamma mia! Mamma mia! Assolutamente perfetto per le festività natalizie, ragazzi! Buonissimo il nuovo gusto Christmas Spicy! Mi raccomando ragazzi, ce ne sono tantissimi da assaggiare sul sito di Level Up! Level Up! Fatto dai gamer, per i gamer! Qua sotto! Sì, vista! Va la macchina! Dovrei recuperare! Siamo su! Marta! Andiamo, veicolo, andiamo! E crocevia! Sì, sì, crocevia! Stiamo dietro la palla! Lo so, lo so! Prese 82! Qui! Eccola! 41! Marta, dietro me! Bravissimo! 35! Bravissimo! Stanno sparando a qualcuno! Sì! Io un fallo attivo! Andiamo a riprendere il veicolo, andiamo! Andiamo, 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 andiamo! Qua nell'acqua, qua nell'acqua! Ok! Chissà! È fermato! Sì, è qui! Sta facendo cose strane! 29 blu! 39! Morto, morto! Marta! Riprendiamo la macchina, andiamo! Mi servono col P, vince! Ehm, glieli lascio qui! Qua! Sto arrivando, sto arrivando! È sotto! Sì, è sotto di me! Ho aperto tutto! Qua lo vedo! Sale, le scale! Senta! Marta! Bravo! Macchina d'arrivo! Qui macchina che vola! Scende! Sì, sì, qui, qui! Va verso le barche! Prenderà le barche! Non prende la barca! È qui! Morto! Guarda! Ok! Vada, 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 vada! Buone ste 13 kill con 45 in, raga, ma... No, no, si può fare, si può fare! Dice che si fa? Questa è trovare sui player! Ripeto, ripeto, benzinaio, benzinaio! Accenda! No, però, vedi! Ah! Morta! Oh, c***o, sono forti! Ne ho tre, ne ho tre, ne ho tre! Ah, adesso è un po'. Morto, morto uno, morto uno! Sono due, vivi, eh! Bravo! Manca l'ultimo! Io sono alive! Vuoi provarci, vuoi provarci? Bravo! Sono qui! Vado io? Sì, sì! Scusate, raga, ma siamo stra concentrati a fare una sfida! Queste 35 kill win non sono facili! Oh, che mira ho! C'è morta! Dove? Davanti, davanti! Lo vedo, lo vedo, lo vedo! Morta? Ottimo, uno qua davanti! Qua davanti! Morto! 20 kill, ne mancano 15 su 36, è fattibile! Dove andiamo? Eh, dimmi una tilted! Ok! Sinistro pulito! Si può fare, raga, si può fare, si può fare! E che serve una concentrazione mica da ridere! Allora, vediamo da laguna! Che se mi sembra... Oh, eccola! Marto uno! Bravo! 43, 43, bianco! Marti due! Marti! Bravo, bravo! Vieni! Mi dà un secondo! Che ti serve? No, anzi, andiamo, andiamo! Ti metto, andiamo! Lo vediamo, in polso! Buona, così! Oh, un altro a destra, 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 destra qua! Ci sfuglia! Andiamo! Morto? Un altro qui, vieni, vieni! Sì, sì! Vado, vado! L'ho sotto, eh! Mi metto in mezzo, mi metto in mezzo! Morto uno! Prova? Dove sta l'altro? Qua, qua! Cento! Porta! Manca ancora uno! Sì! Buono! Non so dove, bro! Non lo so, quello che ha investito dove c***o è! Vengo a prender il team! A destra mi sparano, a destra mi sparano! Arrivo, arrivo, arrivo! Venga, venga! Questi sono capaci! Doppio, 29, blu, ha quello tuo! Morto uno! Eh, uno è white, bro! 43! Arriva! 81! Marta! L'ho! L'ultima! L'ultima dietro! Non so dove è! 83! Marta! Easy! Molto, molto bene! Qua davanti, qua davanti, non c'è un'idea! 70! Marta! Easy! Non era lui, non era lui! Altri che si sparano, altri che si sparano qua, qua, qua! Cazzo aspetta! Morto! Un altro! Bravo! Non mi muoia! Morto! Una hit! Bravo! Marta! Easy! 34! Vado, vado ora, vado ora, vado ora, sì sì, vado ora! Sulla, sulla sinistra! Morta! No, non è vero! 27, guarda morto, 35 kill prese! Morta! Easy! Molto bene, molto bene, molto bene! Oh! 45! Morta! Vai, 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 vai! Contro il 2, ultimi 2! Non sappiamo dove sia! Oh, visto! Dove? Mi fatti a messare, 105? Buono! Non so dove! Ah, ok! Morta! Easy! Eh, l'ultimo sarà lì, immagino! Probabile! 38 kill win! Speriamo! Sì, è dentro! È qua! È già! Nice! Let's fucking go! 39 kill win! In duo! In duo! Easy! Easy! No! No!